Un ultimatum arriva dai sindaci di Travo e di Coli davanti a strade groviera, cavi abbandonati nei campi, discariche a cielo aperto nei pressi del cimitero e ancora persone che sono cadute a causa di tombini rialzati. La colpa, dicono, è del cantiere per portare la fibra ottica, iniziato da due anni e mai concluso. La segnalazione è arrivata sia in regione che in prefettura e anche a Open Fiber, che aveva appaltato il cantiere. La società, scusandosi con i cittadini, ha risposto che è previsto un sopralluogo nei due territori, ma intanto le ditte sono già state diffidate. I lavori vanno terminati o saranno riassegnati. Siamo stanchi, io ho scritto a tutti, ho scritto anche ad Open Fiber senza ricevere risposta. A questo punto io chiederò alla prefettura di allontanare le ditte, perché stanno devastando il territorio e invece di dare il servizio stanno facendo il contrario. Grazie a tutti.